Parliamo di minimalismo, eh già, non chiaramente quello del design, della moto o di quant'altro, ma il minimalismo come stile di vita. Perché questo argomento? Perché l'argomento è caldo e comincia a essere interessante anche in Italia. Ho fatto delle stories proprio da poco, se volete c'è il mio profilo Instagram qua nella descrizione per andarla a vedere, e insomma è stato grande interesse. E poi in passato mi è capitato, no, quando frequento delle persone da un po' più di tempo incominciano a notare che per esempio utilizzo sempre lo stesso tipo di maglietta, mi vesto quasi sempre nello stesso modo e poi quando vengono a casa lì insomma le domande fanno uno più uno, insomma ci sono persone che conoscono già questo ambito e altre che semplicemente sono incuriosite, pensano solo che sono un po' strano, che come dice qualche amico, che è conoscente voglio fare il personaggio, voglio fare lo Steve Jobs, no, De No Antri, mettendomi sempre la stessa maglietta, eccetera. Di fatti, per citare Steve Jobs, ma c'è anche Mark Zuckerberg, Elon Musk, insomma, tanti personaggi poi di fatto sono dei minimalisti per cui insomma inizia anche ad essere interessante, no, e le persone si chiedono perché anche queste persone, i più ricchi al mondo poi di fatto, no, miliardi e miliardi di patrimonio, poi alla fine abbiano queste abitudini, la maglietta sempre uguale, le vestizie sempre uguali, avere una casa super semplice con poca roba dentro e quant'altro, ma non è solo questo ovviamente, cioè il minimalismo non è solamente mettersi un certo tipo di maglietta oppure insomma avere una casa un po' vuota e quant'altro, è qualcosa secondo me di molto interessante perché questo video magari può esserti utile perché insomma io sono quattro anni più o meno che adotto questo stile di vita, il minimalismo, per cui insomma ti posso dire, ti posso dire un po' com'è nata, i benefici pro, i contro di questa mia esperienza. Innanzitutto per fare un'introduzione molto breve cos'è il minimalismo, diciamo chiamiamolo movimento, anche se in realtà mi piace anche per questo, non è un vero e proprio movimento perché di fatto non ha un manifesto, non c'è tutta quella parte poi dei movimenti, no, un po' di ostentazione, anche di voler cambiare gli altri, di volersi sentire al di sopra, zero. Cioè chi è minimalista non vuole convincerti di diventarlo, non gli può fregare di meno e non c'è un manifesto, non c'è una vera e propria corrente. Se per esempio sono delle persone, tra l'altro non c'è un unico modo giusto di farlo, ognuno lo fa a modo suo, lo segue a modo suo, ci si scambia dei pareri, ci si scambia anche un po' quelle che sono la propria e la propria esperienza, per cui ognuno apporta qualcosa a questo tipo di idea. Chiamiamolo movimento anche se non lo è davvero. Diciamo che che lo sappia è cresciuto in America e soprattutto è stato reso celebre da un documentario, Netflix, che ha avuto molto successo, ho parlato anche di questo sul mio profilo Instagram, che è The Minimalist, ok, per cui è fatto da questo qui, da due dei dotatori del documentario che poi hanno fatto anche il blog, The Minimalist, per cui con l'S plurale, i minimalisti, dove ti consiglio di andarci, perché insomma ci sono un sacco di spunti interessanti, addirittura degli esercizi da fare per chi vuole iniziare ad essere un po' minimalista, tutta una serie di cose interessanti, poi hanno lanciato dei libri, troverai un po' di tutto. Un'altra cosa che ti consiglio, e sono le cose che più o meno ho seguito io, è il canale YouTube di Matt D'Avella, scritto di Apostrofa Vella, e è un canale molto figo, fa dei numeroni, per cui milioni di persone, insomma, come ti dicevo in America, già va abbastanza di moda, come tante altre cose, nasce un po' anche, viene un po' potenziato da quella che è la Silicon Valley, come ti dicevo, questa cosa di, no, che i nuovi ricorni, i nuovi imprenditori, eccetera, eccetera, adottano anche questo stile di vita più minimalista. Innanzitutto partiamo da cosa non è il minimalismo, no, perché ci sono tanti, tanti, tanti fraintendimenti. Non è tirchiaggine, come dicono molti, cioè non è mettersi sempre la stessa maglietta, ovviamente lo stesso potello, la stessa, perché se no immagino di cosa vuol dire. Non è una guerra al consumismo, ok? Questa è un'altra cosa che io ci tengo molto, cioè, non mi piacciono i moralismi mai piaciuti, e tantomeno quelli sul consumismo, sulla vita occidentale. Sono un po' ridicoli, perché spesso sono fatti da persone che magari fanno la guerra al consumismo scrivendo da iPhone, mettendosi una maglietta che ha fatto comunque qualcuno in un paese, sicuramente con persone pagate, sottopagate, per cui sono guerre un po' serili. Tutti dobbiamo essere consapevoli, secondo me, fare il meglio che possiamo per la sostenibilità e tutto il resto. Però chiaramente i moralismi non mi piacciono, per cui non è questo, non è una guerra al consumismo. Sicuramente chi è minimalista è più sostenibile, fa uno stile di vita più sostenibile, meno sprechi e ha tanti, tanti pregi da questo punto di vista. Però non lo si fa partendo dal moralismo. In realtà è un po' egoista, diciamo così, nel senso più buono del termine, a mio avviso. Non è vivere da monaco, ok? Per cui non è privarsi dei piaceri della vita, tutt'altro, anzi, è proprio cercare di arrivare a capire quali sono i tuoi piaceri della vita. E non è nemmeno una moda, perché alla fine, sì, per carità, tutto si fa un po' per moda, per trend, magari si con balle, eccetera, eccetera. Però vi assicuro che non è una moda, perché alla lunga ti stuferebbe. Infatti mi dicono molti, ma non ti stufa? No, non ti stufa perché non è un trend che uno fa a un certo punto passa, è semplicemente un modo di vivere che tu adotti e, come vi dicevo, è, secondo me, potenziante invece che è depotenziante, no? Andare a sottrarre. Si è strautilizzata la frase less is more. Ecco, potrebbe essere questo. In pratica cos'è? Alla fine l'hanno sintetizzato tutti, forse la sintesi più carina di tutte è dire che il minimalismo è aggiungere alla propria vita solamente oggetti e cose che danno valore, ok? Cosa vuol dire? È molto ampio come argomento. Cosa sono le cose che danno valore? Beh, sono tutte quelle cose che apportano qualcosa in più alla nostra vita, ok? Per cui che succede? Che per far sì che siano cose che apportano valore, dobbiamo, ci devono essere vari presupposti. Innanzitutto è che noi veramente vogliamo quell'oggetto, quella cosa per noi stessi. Per cui non per fare colpi sugli altri, non per stato sociale o per fare contento alla società. Sai, ci sono tante cose che si fanno, no? Ma lo facevano anche i nostri genitori, eccetera. La bella cucina grossa, con l'ietro domestico. Tutte cose che magari hai usato una volta in vita tua, no? Quante volte è successo. Per cui non è che parliamo solamente del consumismo moderno e sfrenato. Oppure il fatto, non so, che vedo quella roba lì che c'era l'influencer. O anche comprare per noi, perché tante volte fare shopping, oppure non fare shopping, se ci pensate, è un po' un controsenso. Perché non è esco perché voglio comprare un oggetto, perché quell'oggetto mi servirà, mi piacerà, mi fa stare bene. Ma è uscire per comprare, non fare shopping. Ci fa bene, sto un po' giù di morale, esco, compro delle cose, perché questo acquistare delle cose mi farà stare bene. Ma poi di fatto accumulo delle cose che non mi servivano per davvero, magari, e finisce che ho questo famoso accumulo che poi ci dà peso alla nostra vita, invece di alleggerirci. Tra l'altro, un'altra cosa, insomma, è, come abbiamo detto, il discorso sullo status, no? Oggi viviamo un po' di status. Se iniziamo a guadagnare di più, è importante anche, come dire, no? Dimostrarlo, farlo vedere. C'è anche un po' quasi addirittura un senso di colpa. Se uno è arrivato ad un certo punto nella vita e non lo dimostra agli altri, no? Si sente un po', forse sto facendo il tirchio, non sto ostentando, non sto comprando, potrei spendere di più. Cioè, c'è quasi questo paradosso. E poi, insomma, viviamo un po' questa storia, no? Se ci pensate, in questo momento storico, anche alla musica, alla trap, tutto il resto che ci racconta questa storia, che se ce l'hai fatta, se non eri ricco e poi lo diventi, beh, lo devi sbattere in faccia a tutti, lo devi far vedere la tua rivarsa sociale, spesso comprando cose che ostentano. E molti ragazzi più giovani, ma non solo, copiano questo modello, anche pur non avendo i soldi, spesso, pur di cercare, insomma, di scimmiettare uno status, ma senza andare alla trap, insomma, anche tutti gli influencer di ogni genere, Ferragni, Fedez, quello o quell'altro, se si comprano, no? Un certo tipo di capo d'abbigliamento lo vogliamo anche noi. Insomma, qui molti diranno, vabbè, ma io non sono così fesso, non le faccio abbindolare. La verità è che tutti, tutti, tutti ci facciamo abbindolare in un senso o in un altro, per cui è molto difficile. Semplicemente, non lo so, vedendo il collega che fa una cosa e tu non la fai, vedendo una coppia di amici che va a fare una certa vacanza, e allora ti viene in mente, cavolo, perché io non sto al mare a fare una bella vacanza, pure io in quel posto, magari non ti andava, però lo vedi sui social e ti sale un po' la rosicata. Tutto ciò amplificatissimo dai social, no? Perché poi sappiamo che vediamo come le persone, sembra che tutte facciano una vita fantastica, poi lo sappiamo perfettamente che non è così, ma in realtà, a furia di scrollare su Instagram, TikTok, Facebook, quello che vuoi, alla fine un pochino questo tarlo in testa, cioè che gli altri fanno delle cose, che le vogliamo fare anche noi, dunque ecco che lo spirito di emulazione, di riprova sociale e quant'altro. Così come quello che vi dicevo di status, che c'è da sempre, no? Alcune cose si fanno per status. Per esempio a me fa ridere che io non ho quadri a casa, se non questo qui che vedete, poggiato a terra, perché mi piace che l'ha messo così, che è un quadro che mi piace molto, come lo porto storicamente, ce l'avevo a casa vecchia quando ero piccolo, e spesso le persone entrano, ma perché non hai messo quadri? Cioè non è che mi dicono, qui ci vedrei bene, non so, un quadro di questo tipo, no. Perché non hai messo quadri in generale? Cioè questa è pure una cosa bellissima, no? Questo pure perché è una roba di status, cioè del tipo si è sempre fatto così. Cioè nelle case si mettono i quadri, la parete bianca non sta bene, perché non so, boh, marca male, che ti devo dire. Invece a me piace moltissimo, e l'ho tenuta così, mi dà un senso di grande libertà, mi fa pensare meglio, mi dà meno peso. Per cui insomma il problema è proprio questo, cioè che spesso acquistiamo cose anche un po' vittime, di quello che vi dicevo, cioè un po' anche del discorso sociale, per cui se lo fanno i parenti, gli amici, il mio collega, gli influencer, alla fine sarò un po' indotto anche io. Per cui se cerchiamo di spogliare, no, tutti i nostri impulsi a raggiungere oggetti alla nostra vita, veramente rimangono poche, poche cose. Per cui tutto, se spogliamo di tutte queste cose, rimane la domanda, questo oggetto aggiunge davvero valore alla mia vita. Per cui non è il classico shopping, che in sé è solamente una carriera per premiarsi, o l'oggetto, ma spesso è proprio l'utilizzo, c'è il fine, no? Quando si dice non compri la coperta, non compri il caldo, per ricorregarsi anche al marketing che non utilizziamo, oppure semplicemente abbiamo veramente degli oggetti che ci fanno stare bene. C'è anche questo concetto nel minimalismo, perché un'altra cosa importante da sottolineare è che il minimalismo non è, come vi ho detto all'inizio, fare vita monastica, dunque rinunciare ai piaceri della vita per tenersi solamente a quello che conta, cioè un tosso di pane, l'acqua, un letto, no, assolutamente. Si attiene alla vita di farlo stare benissimo, non lo so, gli orologi, e gli orologi costano tanto, per cui spendi anche migliaia di euro, va benissimo, ok? Io ad esempio sto in fissa per i libri, ce n'ho a centinaia, e mi fanno stare bene, ok? Poi magari avrò anche altri vizi, ecco mi piace molto mangiare e andare ai ristoranti, è un altro vizio che costa, oppure mi piace stare al centro, ok, vivere al centro, è un'altra cosa che ha il suo costo, però a me piace molto, mi dà veramente beneficio, perché non riuscirei a stare in periferia per mille motivi, mi piace stare qui, ha il suo costo, ma non è un problema, nel senso l'importante è che sia qualcosa che ti faccia stare bene, per cui non è strettamente legato al fatto di dover fare una vita estremamente umile, ma è appunto una vita minimalista, va chiaro, dipende sempre, ognuno ha le sue possibilità. Che benefici ho avuto intanto da questa roba qui, per cui insomma passiamo ai benefici? Beh intanto sì, vogliamo andare sul praticone, riduzione delle spese, questo è certo, perché comunque effettivamente tutte le cose che ho detto prima ti portano a spendere di più, a spendere spesso per cose che usi poco, non so, hai comprato perché l'ha fatto un altro, l'hai fatto pure tu, insomma tutte le cose che ho detto prima, per cui sicuramente riduci, riduci parecchio i costi, non solo i costi, ma anche il mantenimento, perché comprarsi magari, non so, la moto perché fa figo, però poi costa perché devi pagare un sacco di roba, le spese, il bollo, quello, quell'altro, anche solo tenerla ferma costa, oppure hai deciso di comprarti una macchina super figa perché in realtà volevi farci il figo, non ti serviva veramente quel tipo di macchina, ma l'hai presa, l'hai presa appunto più per gli altri che per te stesso, è chiaro che c'hai dei costi aggiuntivi molto più alti, per cui è un qualcosa che va da sé, ti porta a risparmiare e soprattutto ti porta ad avere molto molto più stress, per cui un'altra cosa che ho avuto è sicuramente l'abbassamento, l'abbassamento dello stress, perché per me ad esempio prima avevo anche un altro posto in affitto, cioè avevo insomma tutta una serie di cose, oggetti, cioè avevo un garage con tutta della roba dentro, insomma essermi di spazio di tutte queste cose mi ha alleggerito mentalmente in una maniera incredibile, così come ti alleggerisce entrare in una casa senza tantissimi oggetti, poi non so voi, ma io avevo la classica casa italiana con mia madre che ha un sacco di oggetti, oggettini ovunque, le mensole, le cose, di tutto, e quella cosa lì mi rendo conto che poi essere passato da questo tipo di modalità mi ha alleggerito molto, cioè io ho questa sensazione di arrivare a casa, mi siedo sul divano, insomma il mio cuore si spande, la mia mente si spande e non mi sento appunto, non sento l'oppressione di tutti questi oggetti perché poi che voi ci credete o no, a parte che c'è pure un altro documentario su Netflix molto bello sul fatto di sparsi degli oggetti e quant'altro che avete sicuramente visto, c'è questo fatto proprio che gli oggetti hanno un loro peso mentale in realtà, cioè sono inanimati, è vero, ma in realtà hanno un loro peso, hanno un loro peso per la nostra mente in un certo senso, per forza di cose, per forza di cose hanno la loro specificità, rappresentano qualcosa per noi in un modo o nell'altro e averne veramente pochi vi renderete conto che veramente abbassa lo stress e soprattutto dà un forte senso di libertà, sia per una questione di gestione, per cui dover gestire meno oggetti, preoccuparsi di meno cose, di manutenzione ma anche veramente libertà mentale che è una cosa importante. Meno sprechi, più facile essere produttivi perché vi assicuro che è anche un discorso di mantenimento e di avere un luogo come questo anche più facile da mantenere, più facile da pulire, per cui se vogliamo essere proprio terra a terra è una questione veramente anche di manutenzione e di maggiore produttività ma soprattutto maggior senso maggior senso di felicità perché la cosa bella è che quando levi tutte queste sovrastrutture hai più tempo per le cose che ti piacciono davvero cioè veramente a un certo punto per forza di cose sei più felice di quello che hai e della vita che fai perché hai levato tutte le cose che in realtà non ti rendevano felice e hai solamente quelle che ti rendono felice per davvero per cui è chiaro che la qualità della tua vita aumenti davvero per farvi un esempio il motivo di vestirsi sempre uguali il motivo per il quale ha migliorato la mia vita e mi ha reso più felice è che io ad esempio ho un po' capito la mania di controllo dunque di fare le scelte giuste eccetera mi sbagliavo la mattina e per me già costare i colori pensare a questa cosa che mi metto mi metto questo mi metto quest'altro la maglietta la camicia che sta bene col pantalone era per me un piccolo stress per carità niente di gravissimo però ad esempio il motivo per il quale i grandi grandi personaggi Zuckerberg che mette sempre la stessa maglietta lo faceva Elon Musk si veste più o meno sempre uguale e tutti gli altri Steve Jobs è forse il primo il più iconico è il motivo che esiste questa cosa che è proprio la decision fatigue cioè qualcosa cosa che è praticamente non so se si può tradurre letteralmente ma è l'affaticamento da decisione da scelta siccome loro ovviamente anche io per carità anche io il mio piccolo faccio il manager del growth in questo caso per cui gestire decisioni team per carità e quant'altro queste persone ovviamente fanno decisioni veramente impattanti e che succede che più decisioni fai durante la giornata il più queste si abbassano di qualità per forza di cose come il tennista che se dà 100 colpi i primi 20 saranno buoni poi via via a un certo punto sarà meno preciso il cervello funziona un po' non lo stesso modo se ripeti tante volte la stessa cosa per cui che vuol dire che se tu ti alzi la mattina e già devi iniziare a decidere come vestirti tutta una serie di cose a un certo punto arriverai al lavoro che già hai affaticato un po' la mente è una piccola abitudine che però sommata a tante altre piccole cose quelle che vi dicevo del minimalismo poi alla fine portano a un forte miglioramento della propria vita io per esempio uso sempre o questa maglietta grigia o la maglietta nera di uno specifico modello o una specifica taglio poi sono un po' maniagale sotto posso mettere il pantalone che voglio perché di fatto sotto ci va bene qualsiasi colore sul grigio o sul nero questa è una bella accortezza ho totto numero di paie di scarpe che possono essere più eleganti più sportive eccetera eccetera e la mattina non devo pensare per me è proprio una roba che mi alzo la mattina mi metto mi metto le cose proprio posso stare anche dormiente e alla fine mi posso vestire proprio senza sforzo sforzo mentale perché questa è un'altra cosa e poi il fatto di dover magari seguire le mode aggiornarsi andare ai negozi fare shopping è tutta una roba che ho eliminato completamente come costi ma soprattutto come fatica mentale è qualcosa che anche se mi piace vestire mi piace la moda e tutto quanto ho capito che era qualcosa che non apportava in realtà valore alla mia vita per cui vado bene anche così utilizzo un abbigliamento timeless cosiddetto cioè che non passa di moda velocemente perché alla fine la t-shirt e un pantalone difficilmente possono passare di moda e su questo ho trovato ho trovato veramente ad esempio grandi benefici per chiudere come iniziare molti mi hanno chiesto come inizio come si inizia a fare il minimanista dove hai iniziato tu beh io ho iniziato in realtà in maniera inconsapevole cioè ho iniziato a vestirmi così di mio mi piaceva ero entrato in fissa nel fatto di vestirmi infatti molti consigliano di iniziare dall'abbigliamento è la cosa più facile la meno impattante perché iniziare a buttare la roba di casa è difficilissimo e il minimalismo nel vestiare è un inizio è un qualcosa che molti consigliano c'è un gioco sul blog The Minimalist se volete andarlo a vedere che è un gioco che è 30 giorni da minimalista dove ti fai una sfida per arrivare a diventare minimalista e eliminare oggetti della tua vita io personalmente ho avuto due fortune una che vi ho detto è iniziato da solo mi piaceva questo concetto e due il traslogo diciamo che il traslogo è un jolly che mi è uscito fuori perché quando fai il traslogo a un certo punto ti rendi conto di quanta roba hai che non hai mai utilizzato che non ci fai un cavolo per cui cosa ho fatto l'ho fatto casualmente ma forse può essere un metodo se un giorno fai un traslogo questo è veramente un growth hack immediato portatevi a casa solo 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 lo stretto necessario tanto per iniziare e vivete con quello e lasciate il resto dentro un garage un magazzino quello che è vi accorgerete che tutto il resto non vi servirà praticamente mai se passano 30 40 60 giorni in cui non andate mai a prendere quelle cose capirete che non mi sono mai servite per cui insomma questo è un bel metodo e molte cose poi le ho buttate non le ho più recuperate a parte quelle stagionali perché è chiaro che se sei a dicembre magari i costumi non ti servono 30 60 giorni però ti serviranno d'estate però il resto veramente è qualcosa che ho abbandonato così per cui questo il traslogo è una gran cosa un'altra cosa che può aiutare è a farti capire che ti serve poca roba e tutto il resto superfluo è quando viaggi molto sono persone che hanno fatto dei lunghi viaggi si sono portati tot cose sono tornati e si erano accorti appunto che tutto quello che avevano a casa era quasi totalmente superfluo totalmente superfluo per cui questi sono i metodi veloci sono veramente i quick wins da andare a fare però mi rendo conto che non è che a tutti capiti di fare un traslogo o di fare un viaggio molto lungo o di viaggiare tappa per tappa in più posti per cui il consiglio magari è andare a vedere questo gioco per eliminare gli oggetti ok per iniziare a piano piano eliminare gli oggetti di casa e questa è la cosa più importante da fare è chiaro che poi è difficile essere minimalisti da soli è facile è molto facile essere minimalisti da soli in una casa per esempio è più difficile in coppia perché bisogna conciliare conciliare un po' i gusti di entrambi magari tu stai con una parte che ti dice no casa così non mi piace perché io voglio lo sfarzo voglio vedere i quadri voglio vedere il sacco di roba eccetera ed è difficile altrettanto difficile con la famiglia perché mi rendo conto che anche con un figlio lì per carità il come si chiama il confronto sociale ha le stelle perché è chiaro che lì si creano tutte le dinamiche il figlio di quello fa quella cosa lì fa quella vacanza c'ha quel giocatto c'ha quello il mio figlio non ce lo può avere il figlio deve avere come gli altri se non di più per cui insomma lì il discorso psicologico si fa ancora più pressante ma ci sono modi e modi e vari livelli comunque di adottare il minimalismo non è che necessariamente bisogna imporlo anche ai figli insomma per cui è la cosa bella che dicono appunto dei minimalisti è proprio questa cioè dicono che si può essere minimalisti in modo diverso soprattutto un minimalista che ne so trentenne che vive da solo avrà un suo modo con una famiglia minimalista avrà un altro modo non so una mamma che vive con un figlio di 45 anni avrà un altro modo e via dicendo per cui non c'è non c'è un vero un vero modo per essere minimalisti questa è la mia esperienza di 4 anni di minimalismo ho cercato di dirvi un po' tutte un po' di dirvi anche le mie opinioni di dirvi insomma i pro in realtà i contro non so non saprei cosa dirvi alla fine non vi ho detto i contro perché perché per me veramente non ci sono i contro nel senso che minimalismo è fare quello che ti piace semplicemente cercando di andare a capire veramente cos'è che ti piace per oggi non ho dei grandissimi contro e andatevi a vedere come vi ho detto il canale di Matt Tavella o The Minimalist su Netflix che è un documentario molto carino una storia molto bella che poi sento molto simile alla mia perché io ho fatto un percorso molto simile come dire loro hanno fatto questa storia in cui sono andati hanno fatto carriera sono arrivati a un certo punto sono arrivati anche a guadagnare quello che si aspettavano dalla vita a diventare dei professionisti riconosciuti e a un certo punto hanno detto ok adesso posso comprarmi le cose sono fatte delle belle vacanze sono comprate delle belle cose macchine quello con l'altro casa e poi hanno fatto ok tutto qua cioè non sono ancora felice perché non sono felice cioè mi hanno detto che sarei stato felice quando sarei diventato un professionista benestante riconosciuto che mi potevo comprare ciò che volevo eppure non sto bene e questo è un po' quello che è successo anche a me a un certo punto io ero convinto che il tassaro della mia vita ultimo che si doveva incastrare era quello di diventare un professionista riconosciuto di guadagnare bene quello che volevo di potermi comprare un po' quello che mi pareva e invece non è stato così per cui anche io come dire con questa scottatura poi sono arrivato a fare una ricerca e avvicinarmi un po' al minimalismo come vi dicevo un po' per caso e un po' poi studiando entrando in questo ambito per cui spero ti sia piaciuto questo video spero di averti detto abbastanza se hai domande curiosità qualcosa che non ho ancora detto o qualcosa che vuoi aggiungere se sei minimalista anche tu scrivi nei commenti e ci vediamo presto ciao